Lo sai che giorno è? È domenica. E non sai che c'è oggi? La messa? La partita! C'è Inter Juve! Cosa fai con quei fiori? Ah, già, per te. Dai, prendi la bandiera. Falla vedere bene. Ah, sì. Ecco. Alzati, tirati su. Vado in piedi, fuori? Sì, in piedi, in piedi. Dai, grida forte. Viva la Juve! Viva la Juve! 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 Sai, quella ragazza della quale ti parlavo, non è una ragazza qualsiasi, come intendi tu. Io mi sono innamorato di te, capisci? Se per te va bene, non so, fammelo capire. Magari un piccolo segno di incoraggiamento, ecco. Perché io sono timido e ho bisogno di capire. Eh sì, eh sì! Fermi, guarda, è un fuori gioco! Eh sì, guarda! Ah, guarda, ma quale fuori gioco? Era in linea! Ma che in linea è in linea? Sta zitta, cretina! Uè, ma scalzone, è il modo di rivolgersi a una signorina. Ma a te che ti interessa, bestia! Grazie a tutti. E' andata male. Dai, non te la prendere. Io ti capisco. Adesso andiamo a fare un giretto, magari andiamo in collina, in un ristorantino romantico con l'orchestra. Ma che orchestra? Che mi importa delle orchestre? Scusami, ma quando la Juve perde in questo modo non mi va proprio di fare niente. E non mi va di parlare. Mi viene voglia di prendere a schiaffi qualcuno. Capisci? Va bene, allora io torno a casa in trama, eh? Ecco, bravo, hai capito. Non è proprio il momento.